Oggi è lunedì 22 febbraio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 22 febbraio 1931. Nei reggi cantieri navali di Castellammare di Stabia esattamente 90 anni fa. Viene varata una nave destinata a entrare nella storia. È il veliero Amerigo Vespucci, vascello di 101 metri con 26 vele, il cui compito è quello di nave scuola per gli allievi dell'Accademia Navale di Livorno. Va a sostituire quella precedente, un incrociatore che portava il suo stesso nome, varato nel 1882 a Venezia e demolito nel 1928. Dopo aver ricevuto la bandiera di combattimento il 15 ottobre successivo nel porto di Genova, la nuova Amerigo Vespucci va ad affiancare nell'attività di addestramento il veliero gemello Cristoforo Colombo. Questo, però, dopo il secondo conflitto mondiale, deve essere ceduto all'Unione Sovietica come risarcimento dei danni di guerra, secondo quanto stabilito dal Trattato di Pace firmato a Parigi. Andrà successivamente in disarmo dopo i gravi danni subiti a causa di un incendio, per essere demolita dai sovietici nel 1971. L'Amerigo Vespucci rimane così la più anziana nave della Marina Militare ancora in servizio e una delle più vecchie navi al mondo ancora galleggiante. Nel corso dei suoi nove decenni di vita ha svolto, oltre all'attività di addestramento, anche missioni come testimonial e ambasciatrice della cultura dell'arte e dell'ingegneria italiane. A dimostrazione del prestigio e dell'ammirazione che raccoglie già da molto tempo, rimane nella memoria collettiva, l'episodio accaduto nel 1962, quando, mentre era in navigazione nel Mediterraneo, incrociò la portaerei USS Independence. Con i segnali luminosi, la nave da guerra statunitense chiese al vascello di identificarsi. Alla domanda «chi siete?», dal belliero italiano fu risposto. Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana. La nave statunitense, una delle cosiddette superportaerei, potentissime armi da guerra che sono rimaste ai vertici della marineria per quarant'anni, rispose alla Vespucci «siete la più bella nave del mondo». Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, dodici minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini, sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.